Cosa vuol dire avere equilibrio nella vita? Equilibrio nella vita significa inquadrare una passione e fare di questa passione una ragione di vita per raggiungere degli obiettivi, per raggiungere un sogno. Quando avevo 9-10 anni avevo un sogno, quello di poter andare alle Olimpiadi e vincere la medaglia del colore più nobile possibile, quindi la medaglia d'oro. Ovviamente era un sogno, questo sogno è stato costruito attraverso un percorso. Questo tutti dovrebbero imparare ad averlo. Avere un sogno, capire come raggiungere questo sogno fatto di obiettivi, costruendoci quindi un percorso. Dall'oggi al domani non possiamo laurearci in scienze motorie, dall'oggi al domani non possiamo vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Quindi qual è il senso di costruire fin da subito il proprio futuro? Individuare in maniera intelligente e diligente quello che realmente ci piace fare. Abbiamo delle attitudini, una predisposizione per far meglio una cosa a differenza che un'altra. Abbiamo un talento, ognuno di noi ha un talento e dobbiamo essere bravi a riconoscere questo talento e a non buttarlo via.